Almeno 16 morti e oltre 130 feriti costituiscono il bilancio delle vittime del crollo di una palazzina di sei piani a Nairobi, in Kenya. Secondo fonti ufficiali non ci sarebbe più nessuno sotto le macerie, dalle quali sono state tratte in salvo 135 persone. L'edificio, che sarebbe crollato anche a causa delle forti piogge che si abbattono sulla capitale dall'inizio della stagione, non era in regola. Per prima cosa non avrebbe dovuto essere costruito qui, che è troppo vicino al fiume, ma la corruzione in questo paese provoca tragedie come questa, in cui sono morti i miei amici e colleghi. Le autorità hanno disposto l'arresto per il proprietario del palazzo e ordinato verifiche sulla stabilità delle costruzioni che si trovano nelle stesse condizioni materiali del manufatto crollato.